Stiamo tentando sempre di migliorare e di portare nuovi prodotti. Quest'anno ci saranno una serie di prodotti che arrivano anche dal centro della Sicilia, anche perché si sta sviluppando, ho scoperto anche tramite questa iniziativa, tutta una serie di persone che hanno fatto consorzi, stanno sviluppando anche prodotti locali. Parliamo dai gran antichi che ci saranno presenti, all'era antica dell'Alba, alla trasformazione anche di alcuni prodotti che vengono dalla mucca, che sono novità per quanto mi riguarda anche a me. Dovremmo avere quest'anno anche l'Enoteca Provinciale con i vini d'Occhio della provincia di Messina per fare gli assaggi. Quindi puntiamo sempre più a una qualità maggiore. prodotti di tutti i locali, dei Nebrodi, anche ce ne saranno tanti, ma anche di tutta la Sicilia, perché credo che mangiare bene e creare sviluppo intorno a queste materie, per quanto riguarda anche la volontà dei giovani, io sto spingendo perché a Gioiosa possono nascere anche, se c'è la volontà dei ragazzi, una serie di aziende agricole che possono produrre prodotti locali, che sempre più, credo, dalle persone vengono ricercate. Fra l'altro anche dall'estero ci arrivano notizie che chiedono prodotti siciliani. Noi facciamo tutto l'invito, abbiamo rivolto anche un appello agli albergatori se mettono in campo, anche se è una stagione in cui i turisti ci sono, ma anche dei pacchetti legati a Gioiosa Gustosa, annunciando e aiutando in questo senso anche la pubblicità di questa manifestazione e in questo senso fare l'invito a quelli di fuori che vengono a Gioiosa anche per questo possono venire, perché possono passare tre giorni, dove possono mangiare bene e trovare, diciamo, e conoscere anche cosa si produce in Sicilia.